Grazie a tutti. E' così importante e così interessante. Sappiamo bene, lo sappiamo tutti, permettetemi di ripeterlo, che il controllo del consumo di suolo è ormai un obiettivo europeo, anzi è tra gli obiettivi che a livello europeo ci si pone con maggiore attenzione e con grande priorità. Tutti abbiamo presente la comunicazione della Commissione, la numero 571, con la quale è stata disegnata la tabella di marcia verso un'Europa efficiente nell'impiego delle risorse. Questa comunicazione fissava una tappa. Entro il 2020 le strategie dell'Unione dovranno tener conto delle ripercussioni dirette e indirette sull'uso dei terreni nell'Unione europea. E' a livello mondiale la percentuale di occupazione dei terreni sarà conforme all'obiettivo di arrivare a quota zero entro il 2050. L'erosione dei suoli sarà ridotta, il contenuto di materia organica ha aumentato, nel contempo saranno intraprese azione per ripristenare i siti contaminati. Torno a dire dati che con grande probabilità sono già di conoscenza di tutti voi ma per introdurre poi qualche proposta da parte mia. Ricordo che tra gli impegni che la Commissione si assumeva c'era anche quello di proporre un progetto di partenariato europeo per l'innovazione relativo alla produttività e alla sostenibilità dell'agricoltura, inteso tra l'altro a garantire che la funzionalità dei suoli si mantenga a livelli soddisfacenti. Anche questo entro il 2020. Nel contempo sta per iniziare una nuova stagione di programmazione 2014-2020 nella quale il partenariato europeo per l'innovazione trova una rafforzata centralità. Ed è proprio su questo aspetto che io vorrei richiamare per qualche momento la vostra attenzione. Anche qui dobbiamo aver ben presente i precedenti. L'articolo 53 del regolamento del 17 dicembre 2013 sul sostegno allo sviluppo rurale precisa che la rete PEI, che sarà europea e non nazionale dunque, verrà lanciata con questa modalità. La Commissione adotterà atti di esecuzione che definiscono la struttura organizzativa e operativa della rete PEI, che ha il compito di supportare il PEI in materia di produttività e sostenibilità dell'agricoltura. Fissato con chiarezza questa modalità di intervento, nella bozza di regolamento delegato dell'11 marzo 2014, la Commissione ha inteso integrare talune disposizioni del regolamento precedente, ma purtroppo dobbiamo rilevare che in questo atto non c'è menzione della rete PEI. A livello nazionale la rete rurale ha, tra le altre funzioni, anche il compito di promuovere l'innovazione nel settore agricolo, nella produzione alimentare, nella silvicoltura e nelle zone rurali ed il Governo si è impegnato, secondo l'accordo Stato-Regioni già approvato, ad adempiere al programma specifico di 100 milioni di euro, di cui 45 milioni a carico del FEAS. L'addizione esatta, che è qui virgolettata, recita gli Stati membri con programmi regionali possono presentare per approvazione un programma specifico per la costituzione e il funzionamento della loro rete rurale nazionale. Quali sono gli strumenti gestionali? Su cui ricadrà il finanziamento sono i gruppi operativi, di cui parla l'articolo 56, che parteciperanno alla PEI europea, che ha un senso proprio perché intende mettere a valore un benchmarking complessivo. In altri termini queste attività non vanno solo sulla rete rurale, ma saranno finanziate anche dalla misura di sviluppo rurale e cooperazione, che è stata chiaramente individuata dall'articolo 55. Il lavoro svolto dalla rete rurale e quello sulla misura cooperazione sarà quindi necessariamente molto sovrapposto. E questo individua sia delle problematicità, delle criticità, ma anche delle opportunità. Infatti la misura cooperazione potrebbe finanziare qualche cosa di più che i soli scambi di esperienze e le occasioni di dialogo, che potrebbero trovare accoglienze nella rete rurale. Io so che l'attenzione del Ministro Martina è già rivolta nella direzione di sfruttare in tutte le sue potenzialità lo strumento del Partenariato Europeo per l'Innovazione, in collaborazione con le Regioni, e ritengo che l'Istituto Nazionale di Economia Agraria Linea possa svolgere un ruolo di raccordo molto importante. Per quanto riguarda la disciplina legislativa sul consumo del suolo agricolo, ovviamente siamo in attesa, siamo in attesa, lo dico come Commissione Agricoltura del Senato, che i nostri omologhi della Camera dei Deputati concludano il lavoro. Ne ho già parlato con il Presidente Sani, sono in direttura d'arrivo, non so se Sani è già intervenuto o ha mandato un suo intervento. A Sani ho fatto presente, ai colleghi della Camera ho fatto presente, che anche in Senato alcuni colleghi senatori si sono attivati presentando diversi disegni di legge, cito quelli del Senatore Ruttel, Senatrice Casaletto, Senatrice De Petris, Senatore Stefano, e anche altri sono in preparazione, e ho motivo di ritenere che la Camera dei Deputati nel suo lavoro possa tener conto anche di questi contributi, fra l'altro avvieremmo positivamente una strada verso il monocameralismo che dovrà diventare, e diventerà, nonostante gli scetticismi diffusi, diventerà l'assetto nuovo e ci auguriamo tutti più funzionale delle nostre istituzioni parlamentari. Mi permetto anche di auspicare che eventuali apporti propositivi ulteriori possano trovare spazio nella discussione, anche presso la stessa Commissione del Senato che ho l'onore di presiedere, penso in particolare al dibattito positivo che potrà svilupparsi sul DDL 1328 che reca disposizioni in materia di semplificazione, razionalizzazione e competitività agricole del settore agricolo-alimentare e della pesca. È l'atto che viene conosciuto anche con il nome di collegato alla manovra di finanza pubblica, un atto molto complesso, molto articolato. L'esame di questo partirà invece dalla nostra Commissione, quindi partirà dal Senato e dalla Commissione Agricoltura del Senato e intendiamo vararlo in tempi molto rapidi perché contiene e può contenere anche con il contributo eminentativo di senatori e poi deputati delle misure attese dal mondo agricolo. Insomma, concludo rapidamente confermando che anche dal nostro e dal mio punto di vista il tema del consumo del suolo è di grande importanza, è di grande complessità e quindi necessita del contributo positivo da parte di tanti attori perché ci sono aspetti di multidimensionalità e di multifunzionalità che sono strettamente connessi e quindi vi ringrazio di questa iniziativa di dibattimento perché permette di gettare una luce in profondità su questo tema e concludo augurandovi non soltanto formalmente ma con convinzione profonda che anche il Senato della Repubblica e in particolare la nostra Commissione Agricoltura vorrà partecipare a questo dibattito con spirito assolutamente positivo e di collaborazione. Grazie per la vostra attenzione. Grazie Presidente. Vorrei rassicurarla sul fatto che il nostro rapporto con il mondo dell'agricoltura soprattutto ministeriale e regionale è un rapporto molto stretto come lei sa il rapporto con la rete rurale è un rapporto che contribuisce sistematicamente ai discorsi che ruotano attorno al suolo non solo attorno al suolo pensiamo ai discorsi che ruotano attorno alla C2 ma pensiamo anche ai rapporti che abbiamo in termini ministeriali non con la rete rurale per quanto riguarda gli aspetti del mare cioè gli aspetti della pesca ma della pesca come la vediamo noi che non è la parte produttiva ma è ciò che in qualche modo influenza impatta, sostiene, rende sostenibile la pesca. Quindi credo che ho richiamato più volte la GEA che è stato col quale abbiamo firmato un accordo definitivo proprio poche settimane fa e credo che questo concorso delle diverse componenti sia essenziale al nostro livello ma anche a livello come lei ha sottolineato dal punto di vista normativo e legislativo che tutti i vari settori si parlano. Resta con noi? No, ecco benissimo ci siamo capiti riprendiamo il nostro il nostro percorso dibattito grazie a tutti